Presentata questa mattina presso la sede provinciale del Partito Democratico di Avellino in viattagliamento la proposta di candidatura di Aria Dem. Si tratta, come già annunciato, di Michelangelo Ciarcia che ha spiegato le ragioni del suo impegno ed i motivi della sua scelta. La nostra è stata una candidatura di un'area che si è riunita e ha deciso. Io penso soltanto che io posso soltanto arricchire il partito e non diminuirlo. Anzi si fa la chiarezza. Non mi sono mai candidato contro il partito e mai lo farò. Magari sarò a casa ma non pensarò mai di farlo per distruggere il partito o la sua immagine. Io cerco di costruire, la mia vita è stata sempre costruire mattone su mattone. Io accetto le scelte del partito e io sto qua aspettando fiducioso che il partito mi indichi se mi indica. Se non mi indica prendo atto di quello che il partito deciderà perché sono una persona seria e accetto quelle che sono regole. Non sto qua a dire se il partito non mi candida vado da un'altra parte. non esiste. Io sono il partito e da un'altra parte non ci vado. Ciarcia tra le altre cose ha detto senza mezzi termini che per senso di responsabilità non intende di mettersi da amministratore unico di alto calore. La questione fondamentale è che si mette a repentaglio la vita di alto calore con una mia posizione di cedere il passo adesso in questo momento. Intanto non sono candidato e quindi fino a quando non sono candidato gestirò questa fase praticamente così come la sto facendo adesso con distacco. Io non sto facendo ancora campagna elettorale. Gli altri candidati o coloro gli autocandidati sono già in giro per l'Irpinia a fare riunioni. Io non la sto facendo proprio per fare una distinzione netta e precisa su quelle che sono le questioni. Io mi sto interessando di alto calore però una mia messa da parte oggi di alto calore rappresenterebbe un serio danno nei confronti della società. Oggi io penso di alto calore. Con senso di responsabilità dico per me non per il mio interesse. Per il partito e per quello che rappresenta oggi di alto calore è preferibile che io sia al mio posto. Poi io non mi muoverò da là.